Ciao! Anche a te ti si scarica velocemente la batteria del telefono oppure hai pochi giga nella tua offerta? Ecco come fare per evitare questo problema. Andiamo sulla applicazione di Google Maps in quanto è collegata con Pokémon Go. Dal menu andiamo su Aree Offline e da qui possiamo scaricare le aree che più frequentiamo. Così quando ci sarà da caricarle noi utilizzeremo i dati in locale. Quindi scegliamo un'area, più sarà grande quest'area e più mega necessiteremo. Quindi andiamo sulla Corsica perché noi siamo dalla Corsica e schiacciamo Download. A questo punto mi scaricherà fino a 1 giga e 725. Ma se io zoomo 300 mega, 225, 175 mega e probabilmente saranno soltanto 30 mega. Quindi Download e a questo punto ci ritroviamo in questa situazione. Aree Offline e sarà tutto sincronizzato. Quindi noi semplicemente entreremo su Pokémon Go e la mappa sarà già pronta. Questo tips è stato offerto da Francesco Yoshigobbo grazie all'Okecole che mi ha fatto scoprire questa cosina. Quindi date un occhio anche a lui. Ciao! 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 Grazie.